Ancora un appuntamento con Q Consulenze, studio di consulenza finanziaria indipendente. Con il dottor Paolo Giovanardi dell'ufficio studi di Q Consulenze parliamo di polizze assicurative. Innanzitutto, dottor Giovanardi, ricordiamo cosa sono e come funzionano. Sì, le polizze assicurative sono uno degli investimenti più diffusi nei portafogli degli investitori, sia per quanto riguarda i giovani che anche i pensionati, gli anziani in particolar modo. Oggi al nome polizze assicurative non corrisponde una caratteristica vera e propria come succedeva tempo fa. Per cui in mezzo alle polizze assicurative abbiamo investimenti di tanti tipi, si va quindi dagli investimenti a capitale garantito anche a investimenti che investono principalmente in azioni. Quindi diciamo che è una tipologia molto variegata. Allora, che cosa deve verificare il cliente per capire davvero di cosa si tratta? Sì, possiamo suddividere le polizze assicurative in due grandi insiemi. Il primo insieme è quello fatto dalle gestioni separate. Le gestioni separate sono investimenti generalmente che acquistano titoli di Stato, sono a capitale garantito e a volte danno anche un rendimento garantito. Il secondo grande insieme di polizze assicurative racchiude invece tutti quegli investimenti che non hanno un capitale garantito e che funzionano nei modi più diversi. Quindi, come dicevo prima, si va da investimenti azionari, investimenti anche di lunghissima scadenza o con rischi variabili. Per quanto riguarda le gestioni separate, allora a cosa dobbiamo fare attenzione? Allora, certamente da una parte c'è un indubbio vantaggio dal punto di vista fiscale, perché siccome acquistano per la maggior parte titoli di Stato, beneficiano di una tassazione agevolata e non pagano ad oggi l'imposto di bollo. Dall'altra parte dobbiamo stare attenti perché sono investimenti che acquistano titoli che oggi hanno rendimenti molto bassi, come sono i titoli di Stato, e quindi le principali cose da osservare sono le commissioni di gestione che possono a volte addirittura arrivare ad azzerare i rendimenti e anche se ci sono delle penali che possono vincolare gli investitori a rimanere in questo tipo di investimento per tanti anni senza poter uscire in anticipo, se non pagando delle penali.